Amici di Fulvio e le sue ricette benvenuti oggi andiamo a preparare un secondo piatto davvero facile e veloce da fare ma golosissimo andiamo a vedere come farlo partiamo subito dall'ingrediente principale che in questo caso è il petto di pollo tagliato sottile mi raccomando non fatelo troppo spesso io ho calcolato due fettine a persona mettete una spolverata leggera di farina questo lo fate un attimo prima di andare in cottura altrimenti la farina bagnandosi farà l'effetto colla e solo una manciata di pepe il sale lo mettiamo in cottura girate e fate la stessa operazione anche dall'altro lato quindi ancora farina una spolveratina leggera leggera ci aiuterà a fare la cremina che accompagnerà questo piatto e poi ancora una manciata di pepe perfetto allora a questo punto non ci resta che andare ai fornelli mettiamo una noce di burro che ci aiuterà anche a fare la cremina un goccino d'olio extravergine d'oliva e uno spicchiettino d'aglio insieme a una foglia dell'oro e lo metto il rosmarino diamo un po' di profumo a questa salsina che accompagnerà il piatto e facciamo andare in maniera molto molto leggera e iniziamo già a mettere le fette non deve cuocere troppo non deve essere la fiamma troppo alta deve essere una frittura leggerissima in poco grasso distribuite le fette in maniera uniforme in questo modo e iniziate a cuocere piano piano con pazienza sempre ovviamente a fiamma bassissima e mettiamo adesso un bel pizzichino di sale adesso usando il rosmarino e l'allora andiamo un po' a dare profumo alle nostre fette di pollo che stanno vedete cuocendo delicatamente dolcemente a questo punto non ci resta che girarle mi raccomando non fate fare la crosticina dorata altrimenti la farina poi si staccherà la salsina non sarà bella bella liscia ma verrà grumosa a questo punto fate la stessa cosa dall'altro lato mettete un pizzico di sale anche da questa parte e continuiamo la cottura aumentiamo un po' la fiamma al massimo andiamo a sfumare con un bel bicchiere di vino bianco e fate sfumare così girando le fette anche dall'altro lato e fate insaporire anche col vino bianco io ho usato un vino bianco secco normalissimo ma volendo potete usare anche un vino bianco frizzante insomma l'importante che non sia dolce o troppo fruttato a questo punto su ogni fetta mettiamo del prosciutto cotto e della scamorza affumicata a fette potete mettere il prosciutto cotto o anche lo specchio io l'ho fatta un po' con lo specchio e un po' col prosciutto cotto sono interessanti e gustosi tutti e due niente le fettine di provola affumicata di scamorza affumicata devono essere sottili ne mettete due tre fette siate generosi anche quelle con lo specchio e le fate andare così a fiamma bassa con il vino che farà formerà questo sughetto di base guardate adesso prendete il sughetto e cospargete le fette sopra in questo modo così scaldate di più la scamorza affumicata e si scioglierà velocemente non serve nemmeno il coperchio così dovete andare a fiamma bassissima la parte sotto diventerà un po' più croccantina e sarà davvero deliziosa guardate come si è sciolta bene la scamorza affumicata e a questo punto non ci resta che andare veloci all'impiattamento una fetta di petto di pollo con scamorza affumicata spec e una con prosciutto cotto e scamorza mettiamo un po' di sughettino sopra bello bello gustosissimo e non ci resta che andarlo a finire io ho messo un ramettino di rosmarino per dare un po' di colore e il piatto è pronto eccolo qua guardate avete visto un secondo velocissimo gustoso che mette d'accordo tutti piace a tutti i grandi e piccoli ed è veloce da fare io come sempre me lo vado a gustare insieme a voi guardate qua le fette come sono morbidissime e come fila ovviamente cotto perfettamente in questo modo e io me lo vado a gustare insieme a voi vi invito a seguirmi nei miei canali social iscrivetevi al mio canale youtube visitate il mio blog www.fulvielesuricette.it preparate le fettine di pollo con scamorza e prosciutto ci vediamo alla prossima ricetta ciao 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 ciao